anche a Roma. RDS Green e Paola Gubbiotti. Filiera bio, equa, italiana, partendo dai primi anelli, dai produttori alla grande distribuzione organizzata. Firmato il protocollo tra gli agricoltori e l'industria molitoria, in un'ottica di maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale. L'obiettivo è promuovere progetti di filiera del grano 100% biologico italiano e soddisfare i requisiti di qualità e sostenibilità e di garantire il giusto prezzo a tutti i soggetti coinvolti, consumatori inclusi, il presidente di CIE Agricoltori Italiani, Dino Scanabino. Questo è l'obiettivo principale che valorizza tra l'altro la tracciabilità dell'origine del prodotto attraverso anche sistemi innovativi come quelli digitali. In Italia l'agricoltura biologica ha dimensioni molto importanti, 2 milioni di ettari coltivati, la sfida che l'Unione Europea ci pone è quella di raggiungere il 25% dei terreni agricoli coltivati con metodi di agricoltura biologica. Oggi siamo al 16%, l'Italia è virtuosa, dobbiamo fare uno sforzo ma siamo sulla buona strada. RDS Green torna domani alle 14.57.